Mettiamoci al lavoro Voltare a sinistra Alla rotatoria prendere la seconda uscita Uscire adesso Alla rotatoria prendere la prima uscita Uscire adesso Alla rotatoria prendere la prima uscita Tenersi a destra e poi voltare a destra. 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 Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Voltare 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 a destra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.